Non saranno gli uomini e le donne del quarto stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo a vegliare sull'incontro tra Sergio Mattarella e il presidente cinese Xi Jinping, una vicenda che intreccia arte e politica lungo l'asse Milano-Roma-Pechino. È proprio nella capitale cinese, infatti, che si svolgerà la prossima visita istituzionale del presidente della Repubblica in partenza il prossimo 5 novembre. Per l'occasione si era pensato di esporre in piazza Tiananmen il capolavoro del divisionismo italiano come sfondo alla visita di Mattarella, una proposta arrivata a Palazzo Marino già alcune settimane fa e che aveva ricevuto un primo via libera informale dal comune. A stoppare tutto ci ha invece pensato la sovrintendente Emanuela Carpani che ha bloccato la trasferta innanzitutto per i tempi decisamente troppo stretti per organizzare il trasporto in aereo a Shanghai e poi fino a Pechino in treno lungo 1.500 chilometri di binari. Non poca cosa per una tela di 5 metri di lunghezza e quasi 3 di altezza. In più ci sono le particolari condizioni di fragilità del dipinto e gli eccessivi rischi per la tutela del capolavoro di Pellizza da Volpedo che necessita di condizioni di conservazione molto particolari. Il simbolo delle lotte operaie del bienio rosso, di proprietà di tutti i milanesi, rimarrà dunque ben fisso alle pareti della GAM.